Senti tu, se no qua ci arrestano se accendiamo la cosa. Pronto? Chi parla? Ah, Gentiloni. Sì. Aspetta, aspetta che lo passo. Aspetta che devo mettere, mi devi aiutare allora, nella tasca della giacca. Un attimo. Nella tasca della mia giacca, quella spinata. Un attimo che il sindaco sta cercando il cavo. C'è un filo del telefono, così un cavetto con cui posso parlare senza essere arrestato. Aspetti eh, che devo mettere un cavo. No, l'altra giacca. Non questa. Aspetta, no, forse è questa. Andiamo a sbattere. Altra tasca? No, non c'è niente. Allora, ho messo qua, sono rincognolito io. Eccolo. Allora. Allora, attaccare il calentino. Di sotto? Bravo, perfetto. Basta, mi dai questo affare e io posso parlare senza trauma. Gentiloni. Era la fortunata trasmissione, Milano-Roma, Francesco Lutelli è con noi. Tutti speravano fosse De Sica. No, vabbè, ma... In studio. Ciao. Che piacere. Ma noi siamo felicissimi. Noi siamo felicissimi di averla. Io sono più felice di voi. Bene. In questa audio generale c'è Roma. Una città a caso, tutte le strade partano da Roma, leggete e moltiplicatevi. Questa è presa in direzione del mare. Sì, sì, è da sindaco, sindaco, ex sindaco, ministro, come la devo chiamare, è stato vicepresidente del Consiglio. La torretta di Montecitorio, il Pantheon, pensa che il Pantheon per 1500 anni neanche si è capito da parte degli ingegneri come i romani avessero fatto a tirarlo su. Per la sua complessità, la dimensione della cupola è stata per secoli la cupola più grande del mondo. Poi basta, se no faccio il Cicerone e vi annoio. Però quante cose si possono... Possiamo restare tutto a pomeriggio, chi ha fatto raccontare i detti di Roma, immagino. Si sieda. Le cupole, le cupole. Sant'Andrea Valle, San Carlo e Catineri. Ciao, buongiorno. Eccoci qua, ben trovati. Ben trovati, bene. L'incanto di Roma. Peraltro, Bladio Bladam, è vero che hai imparato l'inglese sui Beatles? È una critica, cioè, visto che lei lo parla così male... No, 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 no. No, no, ma si rilassi, va benissimo. No, no. A 13 anni, 14 anni, era un orizzonte di mondo che si apriva, no? Queste canzoni McCartney. Poi gli inglesi, devo dire che Beatles li consigliavano i professori d'inglese perché hanno una pronuncia buona dell'inglese, per cui li facevano studiare anche i prof. Non come gli americani del Mississippi. Esatto, un Mississippi. Non si capisce una mazza. Quando negli alberghi ti rispondo il centranista che viene dalla Louisiana o dal Mississippi... Però quello è anche un po' Alberto Sordi, no? Potrebbe rallentare. Com'era Alberto Sordi, Mississippi, Macaronio, tu mi ero evocato. Lui scherzando diceva Air Kansas City. Air Kansas City, giusto. Ma anche nel privato, quando gli diede le chiavi di Roma, Rutella, Sordi, faceva le battute, eh? Alberto, irresistibile, irresistibile. Alberto mi ha raccontato una storia che credo non sia di dominio pubblico, pazzesca, che una volta ricevette un premio al teatro greco di Taormina, un David di Donatello, credo, e siccome faceva caldo, faceva 40 gradi all'estate, andò nei laboratori dove si facevano i gessi per le scene del cinema e si fece fare una falsa ingessatura della mano destra. Perché... Questo lui mi raccontò... Faceva 40 gradi. Non potevo, perché tutti mi vogliono baciare. Sono sudati, mi vogliono stringere la mano, mi abbracciano, eccetera. Oggi sono stanco morto. Quindi è arrivato lì e si è presentato sul palco con la mano ingessata. E tutti gli hanno detto, che è successo? No, niente, niente, niente. E a quelli che gli si avvicinava faceva, ciao, ciao, rivederci. E li teneva lontano. Finita la cerimonia di premiazione, questo è un racconto testuale. Ho cercato le immagini e non le ho mai trovate. Se qualcuno ce le avesse... Teatro Greco Taormina. Sarebbe gradito, ma è una roba a fine anni 50, direi 60. I primi 60. Morale, arrivano a cena, dopo la cerimonia, si avvicinano a sordi e gli dicono Alberto, ti aiutiamo, perché ha questa mano ingessata. Allora lui con un gesto teatrale sfila il manicotto, oggetto via, e si accanisce sugli spaghetti che si era fatto portare. Sono lì all'altissimo, ma irraggiungibile. Proprio un romano, tutte le strade partono da Roma, questo libro. Diciamo che Roma è la città delle stratificazioni per eccellenza. Che cosa ha scoperto scrivendo questo libro? Peraltro Roma è ovunque nel mondo. Cioè la fontana di Trevi è nella metropolitana di Seul, come vediamo da questa fotografia. Ma penso che quello che possa interessare chi ci ascolta, e che come me non conosce abbastanza di Roma, io ho dedicato tanta parte della mia vita alla mia città, ma in ogni parte del mondo ci sono le tracce simboliche, fisiche di Roma. Le basiliche, questa è una finta fontana di Trevi. Un'altra fontana di Trevi finta è a Las Vegas. Vabbè, lì perché c'è anche il Talatash Mahal. Però c'è una fontana di Trevi dove la gente è chiamata a gettare la monetina per vincere alle macchinette delle scommesse. San Pietro, io mi sono divertito a fare un piccolo gioco, se lei mi autorizza ne facciamo un altro oggi sulle mie paginette di Facebook e di Twitter, mostrando una cupola di San Pietro che in realtà è un Campidoglio. Campidoglio, cupola di San Pietro, si trova nella capitale della Pensilvania dove si stanno contando i voti delle elezioni americane, Harrisburg. Ma di cupole di San Pietro e di ricostruzioni di San Pietro ce ne sono, una gigantesca in Costa d'Avorio, grande quasi come San Pietro, con addirittura i finti colonnati del Bernini. Pensa a Bernini, la tomba. Si gira come un frullatore, povero Bernini. Però alla fine apprezzerà. Nel mio libro vi racconto il fatto che oggi Bernini sarebbe felice di vedere che dei ragazzi, che si chiamano Dirty Seagull, hanno fatto un gruppo di piloti di droni italiani, hanno creato un drone che vola vertiginosamente nel cuore della fontana di fiumi, nella Roma vuota del lockdown. Una scena sensazionale. E io mi sono detto, e scrivo, pensiamo a Bernini che possa rivedere la sua fontana a proposito della universalità di Roma. I papi, quello era Innocenzo X, mi sembra, mica ci ha messo il Tevere, il Po, l'Arno. I fiumi della fontana di fiumi sono il Rio della Plata sull'America, il Danubio per l'Europa, il Nilo per l'Africa, il Gange per l'Asia. Pensa che visione mondiale. Però dicevo, San Pietro la trovi in Costa d'Avorio, la trovi in Canada, a Montreal, c'è una basilica copiata da San Pietro. La trovi una così così in Romania, ne trovi un'altra in Olanda. Cioè tu trovi riproduzioni della basilica. E tutto questo forse rende noi romani anche un po' megalomani? Forse spinge, per un verso, a guardare i fatti della vita con un po' più di distacco. Con un sano distacco. E però dobbiamo scoprirlo. Cioè, queste cose che riguardano le nostre pietre, no, la nostra vita vissuta, sotto i nostri piedi, dentro gli strati della città, sono importanti per il mondo. Perché dovunque si vada nel mondo ci sono queste tracce. Le tracce di questa storia e i significati di questa storia che cambia sempre. Indimenticabile. Qualcuno che è la Fontana di Trevi la voleva vendere. Indimenticabile. Non potevamo resistere. Vediamo. Di un po'. Chi l'ha fatto questa puttana? Ah sì, un mio bisnonno. Sì, sì. Fece venire a posto uno scultore dalla Svizzera. Aspetta, paesà. Quei dischi dallo scultore Bernini. Appunto. Siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Io sono italiano oriondo. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerco di un buon bisinista, sa. E perché non ti compri la Fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? Di loro reumatici vicino all'acqua. Eh. Allora la compro io. Dimmi un po' paesano. Quanto costa la Fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della calma. Ok. Paesano. Complimento. Domani viene a Consulata Americana e ti faccio trovare il contratto pronto. E' money! Ok! E un'altra delle più belle fontane romane è opera del suo bisnonno Mario. Parliamo della Fontana dell'Enaia, di anche la statua di Anita Garibaldi. E in una via... Della Fontana dell'Enaia di che veniva? No, della Fontana di Trevi. L'autore della scultura dell'Oceano è un lontano antenato Bracci di mia moglie. Moglie Barbara Parombelli. Però posso dire una cosa? Sì, certo. Ho preso un caffè prima e mi hanno dato 5 centesimi di resto che raffigurano il Colosseo, tra parentesi. Questa parola, a proposito delle parole che girano per il mondo, moneta, qual è la parola che fa girare più il mondo? Moneta. Money makes the work around. Money, monne, munzen. Questa moneta ha origine dal Campidoglio. Questa parola, parola che tutti usano, purtroppo usano anche coronavirus, due parole latine che originano da qui, quest'anno. La parola moneta nasce, una cosa singolarissima, dal tempio di Giunone Moneta, accanto al quale c'era la zecca di Roma, si battevano le monete, e vicino c'era l'erario dove si custodivano. Giunone Moneta vuol dire ammonitrice, e sul serio o per finta i comandanti della città e i militari interpellavano Giunone Moneta se andare in guerra oppure no. Già lo sapevano se farlo, però vedevano gli uccelli attraverso gli aruspici come girassero e dicevano, ha detto di sì, partiamo, partiamo in guerra. Moneta, anche questa parola che il mondo intero usa, e tutti noi, senza saperlo, origina da questo spigolo universale della nostra città. E Barbara Palombelli è legata a lei da, quanti sono, 40 anni di matrimonio? Sì, più o meno. Complimenti. E vi siete conosciuti in via della Palombella, il che, altro che aruspici, qui c'erano. Questo è stato un caso, ce ne siamo accorti dopo, perché fidanzamento occasionale sembrava una cosa che dovesse durare poco. Come sembrava una cosa che dovesse durare poco? E che ne sai, c'hai 20 anni, eccetera. È avvenuto effettivamente in questa strada che si chiama via della Palombella. Ma il primo abbasio chi la... Che sta tra Sant'Eustacchio e... Il primo abbasio chi l'ha dato? L'ha dato lei o l'ha dato Barbara? Queste sono notizie confidenziali. Appunto, è il luogo giusto per darle. Sono notizie confidenziali. Può darsi che fosse più timido io, non lo so. E comunque, insomma, siete sposati da tanti anni. Vi siete sposati prima con il rito civile, poi vi siete risposati con il rito religioso. E avete una famiglia molto bella dalla quale mi fa piacere parlare, perché avete Giorgio e poi avete adottato altri tre ragazzi. È un percorso molto bello che mi fa piacere condividere, perché sì, perché possiamo anche dare qualche indicazione, qualche consiglio a chi ci segue. Francesco, il primo ragazzo che è arrivato siete andati in Ecuador a prenderlo. Sono andati in Ecuador. Barbara ha lasciato la trasmissione e il lavoro che faceva per sei mesi. È stata una scelta difficile. Rimane difficile per ogni figlio. Non c'è differenza tra un figlio, virgolette, naturale e un figlio adottivo. Certamente dei ragazzi o bambini che hanno già una storia pregressa non semplice hanno un'aspettativa e portano anche, diciamo, gli interrogativi di questo vissuto. Però la vita può scioglierli e può insegnare molto anche a noi adulti. Comunque a noi ha insegnato molto. D'altronde, matrimonio, noi abbiamo fatto, lei ne ha citati due, sì, ho anche detto scherzando che a Barbara un giorno che se poi ne facciamo pure un terzo. Ho citato Las Vegas. Eh, andate. Vabbè, noi veniamo con le telecamere. Però al di là di questo forse sono riusciti bene perché li abbiamo organizzati malissimo. Abbiamo fatto due cerimonie nella quale la prima non avevamo neanche la macchina fotografica non abbiamo le foto. Come non sono? Il funzionario Capitolino amabilmente si prestò a comprare una macchinetta useggetta dell'epoca non era buono a usarla. Quindi non abbiamo foto del nostro matrimonio. Abbiamo tanti album di famiglie. Quindi organizzati molto così. Ma perché l'avete fatto? Perché vi divertiva farlo? No, per sancire un'unione. Però non ci siamo concentrati sulla cerimonia. Ecco, questo sì. Però era divertente anche perché eravate due ragazzi comunque moderni. Era un modo per rompere con le tradizioni. Era meno importante la cerimonia che alla fine le parole che ci siamo detti. e che avete poi rinnovato. Ma è vero che il viaggio di nozze è stato fatto a piedi da una parte all'altra? Il viaggio di nozze è stato... Abbiamo lasciato la macchina di sotto e siamo andati a piedi e l'ho portata in uno dei posti più belli del mondo. Il Celio. Che è uno dei sette colli romani. Alcuni dei luoghi più meravigliosi che chiunque venga a Roma invito a visitare. perché un tratto della città ancora integro ancora integro come lo si trovava con le vigne e gli spazi verdi dei secoli dal Medioevo al Settecento c'è la Chiesa dei Santi Quattro Coronati e San Clemente dove ho fatto la vera visita di... il vero viaggio di nozze come abbiamo un viaggio in profondità negli strati negli strati di Roma. E dicevo approfitto di voi ho messo un piccolo quiz un piccolo gioco sulla mia pagina di Facebook e di Twitter per chi indovina a cosa si riferiscano due foto che ho pubblicato di due strani luoghi del mondo riferiti a Roma. Chi risolve questo quiz su questa paginetta vince gli manda una copia del mio libro. Va bene impegnatevi. Quindi San Clemente va così no però la cosa anche che volevo chiederle anche sempre rispetto all'adozione perché poi c'è una domanda che mi pongo come si fa a colmare la mancanza di amore che dei bambini voi avete adottato anche Monica e Serena poi Serena è andata anche al grande fratello quindi insomma la storia è diventata anche ancora più pubblica perché comunque ha preso parte a una trasmissione popolarissima come si fa a colmare una storia d'amore un bisogno di amore da parte di chi è stato abbandonato deve essere molto duro per voi come è stato e come ci siete riusciti è un esercizio quotidiano siccome è un esercizio che continuerà anche quando noi non ci saremo più perché è evidente che avere quattro figli due nipoti oggi noi abbiamo due nipoti uno di nove uno di quasi tre anni comporta una grande responsabilità però comporta anche una diciamo un arricchimento impareggiabile è difficile e qui non voglio dare un messaggio sulla semplicità e sulla mancanza di problemi ci sono tanti problemi tante questioni da affrontare ripeto quotidianamente ed anche sapendo che quando noi non ci saremo più dobbiamo fare in modo che ci sia una solidità una costruzione affidata alle persone alla loro scelta alla loro volontà che permetta di affrontare la vita al di là del supporto che possono dare due genitori ecco peraltro ma chi ha deciso di più di adottare è stata più una scelta sua o una scelta più di Barbara? l'abbiamo deciso insieme perché abbiamo avuto il primo figlio quando ci siamo sposati il famoso viaggio citato prima più breve di nozze più breve del mondo Barbara aveva una pancia di otto mesi e poi non è arrivato un secondo figlio abbiamo abbiamo preso la strada di andare molto lontano come c'è stato abbiamo fatto delle domande ufficiali il servizio sociale internazionale ci ha mandato questa foto di questo ragazzino che stava a Quito Ecuador e siamo partiti e qual è stata l'emozione di vederlo? è stata una cosa straziante perché il suo ragazzo fosse un uomo perché parliamo di storie di 33 anni ne aveva 5 allora si presentò all'aeroporto con un fiore per la sua futura mamma e Barbara? e beh pianto come sto perdendo io adesso va bene allora e poi ci sono Monica e Serena le quali hanno avuto molto bello l'emozione molto bella l'emozione noi siamo qui per propagarsi delle emozioni perché crediamo che sia il sapore della vita è stato importante emozionarvi insieme in questi 40 anni con Barbara Barbara non è intelligente siete una coppia di successo entrambi lo siete state lo siete diciamo bisogna condividere il più possibile questo è un piacere cioè il rischio di essere competitivi non è una coppia così di successo no poi diciamo aiuta il fatto che io ho smesso di fare politica da ormai sette anni passa quindi a Dio piacendo sono fuori dai riflettori lei ci sta molto di più e questo questo è un fattore di equilibrio aiuta e questo diciamo quando abbiamo visto io non ero favorevole che la nostra terza figlia Serena e Monica sono arrivate noi avevamo avviato un processo di affiancamento di sostegno non pensavamo di adottarle e poi ci è successa una cosa veramente misteriosa che è giusto raccontare perché è vera misteriosa io andai a trovare con gli altri due figli madre Teresa nella sua casetta sulla via Casilina per le cose da sindaco lei aveva cerchileva sempre un aiuto per le attività di solidarietà che si facevano in varie parti della città mi sono portato i due figli per farle vedere che questa santa viveva in un spazio per polli quindi c'era già Giorgio Francesco e andate a trovare madre Teresa di Calcutta via Casilina dove lei dormiva in una specie di posto microscopico un segno di povertà e di umiltà mi sono portato i due figli lei ci guardò e disse a Barbara e a me ma mica avete finito avrete altri figli noi di Perlì abbiamo pensato vabbè è un segno di gentilezza dopo poche settimane non dovrei commuovermi ma capita dopo poche settimane un amico di Barbara la chiama e le dice c'è un due ragazze che hanno un sacco di problemi perché non le affiancate i servizi sociali e le sostenete da lontano poi è diventato un affidamento poi è diventato un'adozione poi sono diventate nostre figlie perché mi fai perché mi fai queste domande basta andiamo allo specchio dai così così proviamo un po' che rapporto ha con lo specchio Ludelli? come si vede dalla capigliatura scadente non ci crediamo ciao i nostri affetti stabili qui ecco questa è una delle cose che sono a proposito di sordi rimaste nella nella casa di sordi che adesso è aperta anche al pubblico nonostante le restrizioni spero riaprirà la cosa a cui lui teneva più di tutti era la sedia del barbiere aveva un'autentica sedia del barbiere dove si faceva personalmente la barba e che è rimasta lì chi visita la casa di sordi trova abbiamo fatto un collegamento per raccontare ed era effettivamente lui anche con orgoglio me la fece vedere le varie volte che sono andato mai nessun rimpianto per aver lasciato la politica no ho fatto proprio zero 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 l'ho fatto per tantissimi anni faccio altre cose anche nuove che mi interessano sì l'anica il mondo del cinema cose bellissime tante cose molte di volontariato molte anche professionali è giusto che tocchi ad altri riprendersi la responsabilità pubblica l'ho fatto per più di trent'anni adesso su Roma no Calenda Raggi adesso abbiamo questi due candidati lei non mi estorcerà nulla va beh ma è meglio parlare di cose anche perché non ha non ha il rasoio del barbiere quindi non mi può minacciare e io non risponderò lei è tranquillo con Barba non avete mai discusso di politica sì ha ben litigato anche insomma su qualcosa abbiamo anche dissentito chi è più di sinistra lei sì e da che cosa si vede che è più di sinistra ma sui temi del lavoro è stata credo anche giustamente molto molto risoluta vediamo la prima slide di foto una famiglia molto importante avete avuto una talpa a casa mia per avere ma noi sappiamo fare il nostro lavoro Eppe Stefania hanno lavorato bene domanda famiglia molto importante questo è mio nonno Mario peraltro un donno Mario giusto delle nazioni no? un donno Mario ha salvato è una cosa che è bella che è da raccontare perché lui lui era commercialista aveva delle attività anche commerciali lui ospitò durante l'occupazione nazista di Roma un suo dipendente ebreo gli salvò la vita Lello Piazza si chiamava io ho incontrato il figlio e i nipoti ancora pochi giorni fa e ha rischiato la sua vita veramente una volta dovete fuggire dalla finestra erano venuti a cercarlo e questa storia però che è un vero fatto di eroismo anche mia mamma Sandra che vedete qui rischiò la sua vita in quel contesto non fu mai vissuto come un gesto di eroismo fu vissuto come un comportamento normale che una famiglia normale deve a delle persone minacciate questo è stato fatto da decine di migliaia di italiani durante la guerra che hanno aiutato fatto riparare nascosto dalla soffitta anche mio nonno nascose il suo vicino di casa ebreo fece una finta parete si può sempre scegliere da che parte stare forse questo ci insegnano invece mamma Sandra morì quando lei era giovanissimo si ammalò anche molto giovane a 30 anni mia mamma è un ricordo meraviglioso e straziante perché tutta la mia adolescenza l'ho passata con lei malata ed erano altri tempi in cui un tumore al seno era difficilmente curabile o meglio si poteva operare si poteva intervenire ma molto diverso da oggi questo ci ricorda l'importanza della ricerca di investire sulla lotta preventiva contro le malattie e io l'ho accompagnata tutta la mia adolescenza le mie prime esperienze a 18 anni con l'automobile la patente sono state per accompagnarla dai suoi medici finché non è morta mentre io le tenevo la mano e ho 19 anni queste sono cose che mi hanno forgiato più di ogni altra scuola e che cosa le hanno insegnato se si può parlare di insegnamento forse anche a proposito della malattia di oggi cioè della pandemia secondo me noi dalla pandemia usciremo più umani nel senso che abbiamo capito che la morte può essere anche per quelli che si sentivano in grado di fare qualunque cosa può essere dietro l'angolo e una sorpresa negativa può essere dietro l'angolo e quando sarà finita riscopriremo la bellezza delle cose che ci sembravano scontate normali da fare facevamo ogni giorno e che oggi non possiamo fare allo stesso tempo però usciremo secondo me più induriti io vedo un doppio livello è successo anche con lei aver vissuto un lutto in un'età così giovane quando invece si dovrebbe pensare solo alla vita le ha consegnato una parte anche di asprezza nel quotidiano era troppo dolce la cosa è troppo buona però perderla è stato brutale mi ha dato forza mi ha insegnato un sacco di cose la cosa che più mi ha insegnato se posso dire nella mia vita pubblica è che vorrei dire a chi ci ascolta essendo più giovane essendo un ragazzo oggi è che mia madre è stata ferita sotto i bombardamenti e i ragazzi di oggi giustamente nati in un'epoca in cui le guerre sono finite anche grazie alla costruzione dell'Europa noi le guerre con chi le abbiamo fatte? con i nostri vicini con i nostri vicini Francia i ragazzi di oggi sono convinti i miei figli sono convinti che tutto questo sia acquisito per sempre così non è mia madre è stata ferita da un bombardamento alleato mentre andava a prendere l'acqua che non era in casa durante la guerra il fratello di mia nonna Parmense è stato ucciso alla presa di Gorizia nella prima guerra mondiale ed era il gioiello della famiglia cioè voglio dire le nostre famiglie tutte le famiglie le famiglie operaie le famiglie borghesi tutte le famiglie le famiglie dei militari e dei civili nella nostra nazione hanno conosciuto sofferenze che oggi i ragazzi però mi faccio dire anche nella politica pensano che non esistano non debbano esistere più anche nella politica io da ragazzo quando ho cominciato a fare politica negli anni 70 erano anni terribili terribili andavamo nel centro della città e ogni sabato c'era un morto ammazzato per le brigate rosse per i gruppi neofascisti per la violenza politica a me capitava girando per Roma col motorino di dovere cambiare strada perché c'era un posto di blocco perché c'era stato qualcuno magistrato un politico morto ammazzato per la violenza politica quindi voglio dire a chi ci ascolta anche i genitori che ascoltano ai nonni che ascoltano e ai ragazzi che ascoltano non è vero che le generazioni precedenti hanno vissuto un'età del loro noi abbiamo c'è da costruire tanto c'è coraggio che ci vuole e ci vuole partecipazione se posso dire al destino pubblico pubblico il mio libro si chiama Tutte le strade partono a Roma c'è una bellissima frase di Gilles Verne il giro del mondo e tanti altri libri di viaggi che dice che certe strade indicano più che una destinazione un destino e questo vale per la vita c'è un destino nella nostra esistenza che qualche volta si può schivare come quelle pallottole che stanno arrivando nei film di spionaggio oppure percorrere che magari prendono una foglia che le riorienta si può schivare ma si può partecipare questa è la bellezza dello spazio pubblico e qui c'è Serena che vuole dirle qualcosa mio padre è un papà perfetto è un papà che non cambierei mai per nessuna ragione al mondo è un papà perfetto un papà che c'è sempre è un papà primuroso si apre i suoi figli ma anche lui ama da morire i suoi nipoti è un papà giocarellone è allegro quando tu hai bisogno lui c'è sempre per un consiglio ti abbraccia è affettuosissimo e poi devo dire anche un'altra cosa che come è perfetto ma anche dei piccoli difetti come gli ho sempre detto cioè che è un po' permaloso un pochettino ma non tantissimo è un po' pignolo su certe cose però devo dire che per il resto è perfetto lo amo da impazzire è un papà meraviglioso sì è unico e non lo cambierei mai 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 che poi serena adorabile devo dire per maloso e come per maloso e pignolo che poi durante il grande fratello uscì fuori la madre naturale di serena e monica fu una storia come l'avete vissuta in quel giorno quei giorni io però si fignolo io lo so mi sono un po' permaloso quando mi dicono delle bugie ecco cioè quando qualcuno di figli mi racconta una panzana mi sono quindi non è per maloso il sereno può essere no io non ero favorevole che il sereno andasse però l'ho rispettata del tutto ma poi il momento è arrivata questa signora era una sua aspirazione anche perché era fisiologico che la madre la madre naturale che ha avuto altri sette figli purtroppo tutti abbandonati due sono le nostre figliole e si facesse viva e così è avvenuto ma insomma la serena è stata molto brava è stata tosta perché in diretta le stava in questo bunker del grande fratello dove non si parla con nessuno tantomeno con noi è stata sì molto ferma e aveva le idee molto chiare su come diciamo reagire interagire verso una persona che si è fatta viva con lei direi dopo 25 anni ve lo aspettavate se state orgogliosi direi è stata molto brava solida i nipoti e quindi eccoli qui sono Brian e Carlo Stefano giusto? che belli che belli che sono Un'ultima curiosità, bellissima, immagino che siate due nonni con il cuore in mano, come tanti, come tutti i nonni Un'ultima curiosità, lei si è allarredata in architettura tardi perché aveva scelto la carriera politica per cui il tempo era su altro Lo ha fatto anche per rimarcare così anche un po' una diversità, una propria consapevolezza rispetto al destino familiare Che l'ha fatto tutto di urbanisti, di architetti, è stato anche un po' di ribellione forse all'inizio? No, all'inizio è stata proprio una scelta, mio padre l'ha presa malissimo Che disse papà? Che io facessi politica, pensi che lui è morto nel 94, io ero stato eletto sindaco e era sul letto di morte Gli portai come regalo una fotocopia del progetto di Renzo Piano, lui architetto mio padre Cui avevamo assegnato la vittoria del concorso per costruire l'auditorium che poi abbiamo realizzato Ed è una delle opere più importanti fatte in Italia negli ultimi decenni Lo portai a lui quasi come una forma di... Però lo vedi che si possono fare tante cose pur non avendo seguito la tua strada di essere un architetto Lui c'è rimasto ovviamente male, non ha approvato la mia scelta politica Io ho seguito la mia strada Diciamo, in verità mi sono laureato... E' uno che vuole di più da un figlio, diventa sindaco Io lo so, ognuno ha il suo karma La cosa, no, la cosa per me, io ho preso questa laurea Credo che sia forse la laurea con più esami della storia del nostro italiano Perché ho fatti 23 prima e quindi ho quasi 40 esami per prendere oltre alla tesi Però la tesi l'ho fatta sull'appia antica In tutto il suo percorso, nel paesaggio italiano E questo libro, come potete vedere, ha in copertina i pini dell'appia Come i pini di Roma Ai pini dell'appia Tra parentesi, per indicare come le situazioni sono evolutive Oggi a Roma ci sono 50.000 pini ammalati Per la famosa cocciniglia che sta colpendo questo tipo di alberi Anche la natura ha le sue aspettative A Roma, pensate che i due fondatori, Romolo e Remo, hanno una mamma leggendaria Che si chiama Rea Silvia Perché? Perché Silvia è la selva, il bosco I colli originari di Roma Fagutal, Quetulanus Erano colli che avevano dei nomi legati agli alberi I faggi, le querce Roma era dominata dalla natura e ancora oggi la dobbiamo curare Perché lei ci mette la mano sopra, protettiva Anche questi aspetti, questi racconti sono importanti E fanno parte degli strati di questa città Che arriva alle ultime propaggini del mondo Le pensi che si trova un campidoglio alle isole Hawaii? Si trova un campidoglio in Alaska? E quando ricominceremo a viaggiare Le andremo a visitare tutti Dopo aver visto ovviamente il campidoglio romano Grazie a Francesco Rutelli Grazie a voi Si può alzare dall'interrogatorio Tutte le strade partono da Roma Arretto Grazie anche per essersi raccontato E anche per essersi un po' emozionato Ci saluti tanto Barbara Mi avete preso con il conto piede Ci saluti tanto Barbara Che è una donna davvero, davvero straordinaria Io le voglio molto bene Perché è sempre una donna intelligente Con un grande cuore Saluti a tutti Grazie a voi Viva Roma Buon successo per voi Che siete bravissimi Grazie Grazie a voi